Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergence di Game Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in questo nuovo video di, penso, nella serie di Imparare a Giocare a Yu-Gi-Oh! con un formato alternativo. Oggi, dal momento che me l'avete chiesto un po', insomma, nei vari video che ho fatto dove ho accennato a questo formato, mi avete letto di spiegarvi effettivamente come si gioca a Speed Duel. Speed Duel cosa è? È il formato, per il momento, esclusivo TCG, che sostanzialmente è un po' la nostra versione del Rush Duel, mettiamola così. In OCG hanno creato il Rush Duel, da noi invece la nostra Konami ha deciso di prendere Duel Links e fare la versione cartacea. E quindi ecco che abbiamo il carissimo Speed Duel, ragazzi. Da cosa è formato Speed Duel? Se avete giocato a Duel Links, sapete già di che cosa si parla. Allora, si gioca a tre zone, quindi dovete prendere in considerazione questa zona di campo. Tre zone mostri, tre zone magie e trappole. L'abilità la potete mettere un po' dove vi pare, insomma, va così. E poi quando la dovete scoprire e attivare, la scoprite. E man mano che, dipende da cosa sta scritto nella vostra carta, ci sono alcune carte e abilità che vanno ricoperte una volta che le avete attivate, perché poi magari potete riattivare il turno dopo oppure non potete più riattivarle. Nel caso, comunque, tutte le informazioni stanno scritte direttamente qui, per quanto riguarda la skill card e anche nell'effetto della skill card. Le skill card sono basate sui personaggi dell'anime. E vabbè, in generale comunque sono screenshot o modelli, insomma, delle abilità quando vengono attivate su Duel Links, insomma. Quindi io vi consiglio, per quanto riguarda le abilità, di mettere una Perfect Size trasparente per proteggere la carta e di mettere poi una Sleeve trasparente, una Clear, in modo che si riesca tranquillamente a vedere qual è il personaggio, perché è importante come cosa. Il vostro avversario deve sapere con che personaggio state giocando. Dal momento che, teoricamente, le partite si incominciano con la carta settata e poi la girate quando la attivate, insomma, perché il vostro avversario non deve sapere... deve sapere il personaggio, ma non deve sapere qual è l'abilità del vostro personaggio, vi consiglio questa cosa, insomma. È una cosa che si utilizza per Magic, o per il Prince Walker, oppure per Force of Will, insomma. Io me la ritrovavo per questo motivo, questa Sleeve. Vabbè, vabbè, avete tre zone mostro, tre zone magia e trappola. Non avete le zone Pendrum, anche perché al momento i Pendrum non esistono. Non avete le zone mostro Hexa perché i Link non esistono, perché al momento ci si è fermati a GX. Avete, ovviamente, la zona terreno, la zona del deck, la zona del cimitero, la zona dell'extra deck, insomma. Che al momento, sì, è extra deck, comunque. Diciamo che sarebbe più un Fusion deck, perché non ci sono carte esclusive oltre le fusione. Ovviamente, quindi, avete... Li trovate in un campo completo queste zone qua, insomma. Adesso vi metto i miei Cyber Angeli. Non vi spoilerò la lista perché ho intenzione di portarvi una decklist per quanto riguarda questo mazzo. Poi, quando ci sarà la possibilità di registrare con altri miei amici che vanno a giocare a Speedwool, io non ci valoro un po', onestamente, magari vi faccio delle decklist loro. Comunque, queste sono effettivamente le zone. Poi, a differenza dello Yugi Standard, si incomincia pescando quattro carte piuttosto che cinque. E, ovviamente, ogni draw face si pesca una carta. Eccetto il giocatore che ha cominciato, che incomincia con quattro carte e tiene quattro carte in mano. Il limite massimo di carte che si possono tenere in mano è sei. E se si hanno più di sei carte, poi vanno mandate al cimitero le carte successive, insomma. Quindi, se avete otto carte a fine turno, ne mandate al cimitero 2. Inoltre, cosa molto importante, a differenza da Yugi Standard, non c'è la possibilità di avere una main face 2. Non esiste la main face 2. Quindi, esattamente come due links, se avete da settare dovete farlo prima che vogliate entrare in battle, insomma. Perché una volta che siete entrati in battle, finite la battle e andate direttamente in end face. Quindi, esistono draw, standby, main face, battle face, end face. Essendo basato su due links, ovviamente è molto, molto, molto concettualmente più semplice rispetto allo Yugi Standard. Ci sono molte cose in meno, mettiamola così. Anche i ruling non sono gli stessi dello Yugi Standard. Per esempio, nel Yugi Standard, se si utilizza una carta trappola continua, che si evoca come mostro, poi non occupa più la zona magia e trappole anche. Mentre su due links occupa sia la zona mostro che la zona magia e trappole, per esempio. Vabbè, comunque, per quanto riguarda due links, quindi, abbiamo queste abilità, che sono il valore aggiunto. Perché altrimenti non avrebbe senso giocare a due links. Sì, a speed duel, perdonatevi se lo chiamo due links, però ogni tanto mi si incrociano i neuroni e mi sbattono. E quindi mi esce due links piuttosto che speed duel. E riconoscete le carte speed duel da due fattori. Ovvero, vabbè, prendiamo un mostro. A speed duel scritto qua sotto. E se andate in controluce, adesso non sono sicuro che si veda. Però se andate in controluce, qui sulla sezione dell'effetto, vedrete una scrittina speed duel. Su questa carta abilità si legge, almeno io la leggo, non so se in camera si vede onestamente. Però se si vede, qua c'è scritto speed duel. Adesso magari provo a vedere se riesco a farvelo vedere in qualche modo, non lo so. Vabbè, comunque, fatto sta che... Per quale motivo c'è sta cosa? Perché le carte di speed duel si possono utilizzare nel gioco standard. Quindi voi potete prendere, ovviamente, eccetto le abilità, potete prendere questa izana o questa... No, facciamo un esempio più standard. Idaten common, ok? La volete mettere nel vostro drytron. Perfetto. Voi potete farlo. Se voi, invece, semplicemente avete una idaten che è stampa classica del gioco standard, non potete utilizzare la carta nel formato speed duel. Quindi voi potete utilizzare le carte di speed duel nel formato standard, ma non potete utilizzare le carte del formato standard nel formato di speed duel. Per quale motivo? Perché altrimenti non si venderebbero le carte. Perché i giocatori navigati avrebbero già tutte le carte, le avrebbero... A poche cazzo mi compro a fare le espansioni, i pacchetti nuovi. Vado direttamente a farmi il mazzo, molto semplicemente. Quindi, ragazzi, entrate in quest'ottica. Ovvero che se giocate speed duel bisogna spendere a parte. Che è per il gioco standard, mettiamola così. Comunque, devo dire che, da quello che ho notato, non sembra così tanto dispendioso. Anche perché speed duel ti dà delle belle limitazioni. Ovvero, quale limitazione ti dà? Il mazzo ha un numero di carte che deve essere compreso tra un minimo di 20 e un massimo di 30. Quindi voi potete avere un mazzo di 20 carte, come potete avere un mazzo di 25 carte, come potete avere un mazzo di 30 carte. 31? No. Quindi, prima limitazione, avete un mazzo molto più piccolo, sensibilmente più piccolo. Poi, e questo limita anche, perché oltre al fatto delle zone, limita anche nelle combo sta cosa. Perché avere un mazzo più piccolo vi dà più stabilità, ma se lo buildate male è instabile la merda. Quindi è una cosa da tenere sott'occhio. Successivamente, per quanto riguarda l'extra deck, qui avete sempre la stessa limitazione che c'era su due links, prima che venissero rilasciati i sincro. Ovvero, avete il limite di 5 carte di extra deck. Si pensa che quando verranno introdotti i sincro in Speed Duel, si passerà da 5 a 6 come limite di carte di extra deck. Però, al momento, il limite, per non saperne leggere e scrivere, è 5 carte di extra deck. Per quanto riguarda, invece, la side, avete 6 slot da utilizzare di side. Quindi, non potete mettere più di 6 carte di side deck, insomma. Per il resto, ragazzi, non ho null'altro da presentarvi, null'altro da dirvi. Per quale motivazione? Perché è letteralmente due links. Ragazzi, Speed Duel, se avete giocato a due links, sarà una cagata da giocare per voi, perché saprete già tutte le regole e tutto come funziona. Perché, realisticamente, è un mondo che avete già visto. Quindi, non penso di dover spiegare altro. Insomma, ricordatevi semplicemente che è due links trasposto nella vita reale, insomma. Con le carte fisiche, le carte che tu le tocchi e dici Mamma mia, mi è caduta la Lexis. Tu le tocchi e dici Mamma mia, come sto! Esatto, questa cosa, insomma. Per quanto riguarda altre cose da dire, niente. Assolutamente niente. Quindi, ragazzi, questa è l'introduzione a Speed Duel. È letteralmente una cagata di formato da spiegare, perché, appunto, è la versione cartacea di un gioco già esistente. È come se io dovessi spiegare come si gioca Master Duel, che è lo standard. Come si gioca Master Duel è Yu-Gi-Oh! Cazzo! Quindi, non ho nient'altro da dirvi. Ragazzi, un prossimo video sarà la decklist di questo mio mazzo Cyber Angel. Io mi sono montato questo mazzo Cyber Angel, anche grazie a Magic Corner. Wink Wink, qua sotto trovate in descrizione il link al loro sito. Se volete comprare carte, ho prodotti sigillati. E grazie al box che mi mandarono, io dissi, vabbè, dai, incominciamo a giocare, anche perché qui si sta provando a riaprire una community per quanto riguarda Speed Duel. E quindi mi montai questo mazzetto. Questo mazzetto l'ho montato con 30€, ma l'ho montato con 30€ per quale motivo? Perché mi sono preso delle carte realizzate, perché mi andava a dipendere le carte realizzate. Tipo, questa qui è una carta che al momento non gioco, Cyber Lama. C'è l'exalack perché sì, perché mi piace. Molto semplicemente me la sono presa realizzata perché mi piaceva come carta. Così come, per esempio, polimerizzazione. Me la sono presa Secret, al momento non la sto giocando. Però con la polimerizzazione ci sta il fatto che l'abbia presa Secret. Perché? Perché mi serve in Fluffal, per esempio. Quindi alla fine, ragazzi, se fate il mazzo senza realizzarvelo, alla fine si va a spendere tutto sommato poco. I prezzi sono molto molto contenuti, quindi potrebbe essere un'alternativa per giocare a Yugi quando il gioco standard è in alcuni formati un po' dispendiosi, mettiamola così. Comunque, ragazzi, in generale al momento non stanno più pubblicando dei set con delle bustine. Stanno facendo semplicemente delle recollezioni, che ci sta anche perché potete dividerle con gli amici e dato che hanno tanti mazzi al loro interno, potete crearvi la vostra piccola community, mettiamola così, e poi utilizzarli per giocare, insomma, ai tornei, se nel caso nella vostra zona si tengano. Ragazzi, ditemi se vi è tutto chiaro e ditemi se vi interessa questo formato. Io non ci ho provato fino ad ora a portarlo perché è uscito nel 2019. Nel 2019 io stavo in fississima con Yugi Standard, dovevo entrare a pambatesa nello Yugi Standard effettivo e quindi in nazionale, cioè in nazionale, regionali, YCS e cose del genere, quindi non l'ho trattato. Poi durante il periodo pandemia, ovviamente, si è fermato Speed Duel. Adesso che si è ripreso, ho detto vabbè, senti, sai cosa, proviamo a montare un mazzo e incominciamo ad andare ai tornei. E devo dire che il formato, comunque, a differenza di quelli classici tipo i vari formati, anzi non i vari formati, i vari formati che si possono avere tramite il Wizard, il Time Wizard, che molti prediligono, mettiamo, Banlist 2004, Banlist 2005, con il formato Time Wizard, rispetto a quei formati che quindi fanno parte della vecchia era, quindi sono molto vecchi e molto lenti. A differenza di quello, questo mazzo e questo formato, secondo me, non è così tanto lento, non è così tanto tumorale, poi ovviamente dipende da persona a persona, però il fatto che comunque non sia così tanto lento quanto i vecchi formati di Yu-Gi-Oh! mi fa molto piacere. Detto questo, ragazzi, scrivetemi qua sotto tutti i vostri dubbi. Noi ci vediamo, come al solito, domani alle 15 con un nuovo video. Ciao, ragazzi!